Volevo solo informare le opposizioni che questa maggioranza sta già lavorando molto sulle onde. Credo che siano state fatte quattro commissioni tra congiunte, commercio e ambiente in cui sono stati chiesti tutti i dati. Ne abbiamo parlato con i prestatori, ne abbiamo parlato con AMA e non so se erano presenti le opposizioni, se erano presenti forse erano distratte. L'importante è venire e contestualizzare anche nelle commissioni perché fare un lavoro, come viene sempre annunciato dalle opposizioni, significa farlo anche nelle commissioni non solo in consiglio reclamando fantomatiche contribuzioni che non ci sono state finora. Però noi ad oggi i dati che abbiamo in merito dell'ordenza non domestica sono quelli che poi ci hanno portato a valorizzare il bilancio e questo atto vuole essere un incentivo alle utenze non domestiche e commerciali che possono cooperare, è un incentivo a cooperare meglio in questo obiettivo di aumentare la raccolta differenziata. Questo perché poi i soggetti interessati sono tanti. I prestatori AMA, noi che diamo gli indirizzi a tutti, e le utenze non domestiche, in questo modo diventano i primi controllori dei prestatori per conto di AMA e per conto del Comune di Roma. Non ci vuole molto, si tratta di logica. Grazie.